Notte dei racconti, colina la pesciolina, avete fatto un regalo fantastico ai bambini e alle bambine di Reggiana Nuoto però vorremmo proprio sapere da voi che l'avete vissuta, che l'avete interpretata, com'è andata? La preparazione, le emozioni che avete vissuto da dentro? Allora, l'idea in realtà ci è venuta più o meno per caso in realtà perché stavamo facendo una riunione e abbiamo detto perché non preparare una cosa per i bambini, no? Anche come evento in piscina che di solito viene visto solo come corso di nuoto invece c'è tanto altro, abbiamo inserito i tuffi, abbiamo inserito il nuoto sincronizzato abbiamo inserito tante cose che magari non si vedono tutti i giorni ma per i bambini sono anche spettacolari, sono anche entusiasmanti e sono entusiasmanti anche per noi istruttori che la viviamo perché vedere tutti i nostri bambini lì che poi guardano noi che siamo le persone che gli insegnano tutti i giorni è stato veramente emozionante Abbiamo parlato di un regalo e davvero posso assicurarvi che è stato uno splendido regalo avevamo i bambini incantati e guardavano le ragazze del sincro, i ragazzi dei tuffi, il gruppo del nuoto quindi un po' tutti si sono messi a disposizione credo che siano stati davvero tanti volontari ma avete fatto tante prove? In realtà no, non abbiamo fatto tante prove perché il tempo alla fine corre veramente veloce e quindi tra una riscrittura, un aggiustamento, tutti quelli che ci hanno aiutato quindi luci, musiche e quant'altro è stata in realtà una corsa contro il tempo quindi siamo molto contenti di come è uscito il risultato finale perché c'è stato anche un coinvolgimento del pubblico anche inaspettato quindi è stato veramente meglio di così, non poteva venire Una bella soddisfazione, complimenti ancora perché siete state davvero fantastiche e davvero ancora una volta avete reso diversa e davvero entusiasmante la notte dei racconti Grazie